B.A.R. Ciao, benvenuti nella teglia di Barbie. Oggi giochiamo con la moda per creare un look romantico. Ci servono matite colorate, colla, forbici e naturalmente lei, Barbie. Ovviamente possiamo farlo con tutti i colori che vogliamo. Oggi sogno un bello romantico e lunghissimi capelli come quelli della principessa Sissy. Possiamo usare nastri che sono perfetti per lo stile romantico. Poi possiamo usare anche fiocchi e tessuti per decorare altre parti del vestito. Adesso iniziamo a colorare. Adesso diamo sfogo alla creatività con fiocchi e nastri. E' arrivato il momento del taglio. Adesso dobbiamo stare molto attenti a seguire i puntini e non dimentichiamoci le lunguette. Ecco fatto. Adesso l'ultimo passaggio. Vestiamo la Barbie. Stile romantico completato. Esprimi la tua creatività e crea i tuoi look con Barbie Jock con la moda. Ciao ciao!